Musica Benvenuti al TG10, oggi l'apertura del telegiornale la dedichiamo al gesto ignobile che si è verificato a Niscemi Poche ore prima della consegna di un bene confiscato alla mafia e ristrutturato in un centro di accoglienza per diversamente abili Sconosciuti hanno imbrattato il locale Uno sfregio che non ferma l'opera di contrasto alla criminalità portata avanti dall'amministrazione comunale e dal consiglio comunale niscemese Vediamo Un atto ignobile l'ennesimo che si registra a Niscemi Ma nulla e niente potrà fermarci Lo dice il sindaco Francesco Larosa dopo che i beni ignote hanno imbrattato con dello spray L'immobile confiscato alla mafia è trasformato in un centro di accoglienza per disabili La cui consegna ad una associazione di genitori si è svolta questa mattina in contrada Vituso Che cosa avete trovato sindaco? Abbiamo trovato un edificio proprio vandalizzato Non fatto da vandali però Abbiamo trovato un edificio con segnali chiari E sono in equivocaboli Praticamente tutto segnato da una vernice nera Tutto attorno Con delle figure falliche Nel perimetro e nei muretti Ieri stesso abbiamo deciso Mi sono confrontato con il prefetto Abbiamo deciso Si va avanti Non possiamo perdere questa occasione Rimandiamo tutto ammittente Noi andiamo avanti nel percorso di legalità che ha intrapreso la città di Niscemi Ma chi può davvero pensare di commettere un gesto simile in una giornata così importante Che riguarda la collettività, non singoli soggetti? E vedi, perché riguarda la collettività e a tutta l'Italia Il 21 marzo è il giorno dell'impegno e della memoria Questo ha fatto sì che in questo giorno un bene confiscato dalla mafia Venga consegnato alla popolazione e diventa un deterrente per tutte le associazioni Per tutti coloro che hanno perpetrato danni nei confronti dei territori Mentre diventa un deterrente per chi effettivamente vuole dare segnali distensivi Segnali di legalità e percorsi diversi Quindi c'è da aspettarsi un po' da tutti perché vorrebbero bloccare un'iniziativa che non è Niscemese Nemmeno regionale ma nazionale Sperate che vengano individuati al più presto i responsabili di questo fatto? No, noi ne siamo convinti, non lo speriamo Noi siamo convinti che le forze dell'ordine in modo celere e veloce Andranno a consegnare alla giustizia chi ha creato questo danno Che più che un danno economico e materiale è un danno simbolico fatto a una nazione Italia Che ha detto no alle mafie Il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, stigmatizza quanto accaduto nelle ultime ore Un vero e proprio sfregio, l'indirizzo di una comunità, quella Niscemese Che sta facendo enormi sacrifici per debellare la criminalità organizzata e non C'è sempre qualcuno che prova a frenare il cambiamento? E purtroppo sì, è una cosa ignobile che va assolutamente condannata Noi siamo qua per testimoniare che la legalità si può affermare con gesti concreti Con l'assegnazione di questo bene confiscato Assegnato al comune di Niscemi Ristrutturato grazie ai fondi del Ponsicurezza Altro elemento importantissimo E quindi restituito alla collettività per fini sociali Più fini sociali di quelli di oggi non ne conosco Veramente mi fa piacere essere qua e avere questa opportunità oggi Alla comunità di Niscemi e al suo sindaco Francesco Larosa Va la solidarietà mia, personale e del Partito Democratico Di fronte ad un gesto vigliacco che offende l'intera città Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD A proposito di quanto accaduto a Niscemi Dove ignoti, lo abbiamo visto Il giorno prima della cerimonia di consegna Hanno imbrattato un edificio confiscato alla mafia Che il comune ha destinato ad una comunità per bambini disabili Ed il bene oggi è stato regolarmente consegnato Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose Era presente anche il presidente della commissione regionale antimafia Nello Musumeci E' stata scelta la ricorrenza della giornata della memoria Dall'impegno dedicato a tutte le vittime delle mafie Organizzata in ambito nazionale da Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie Per la consegna questa mattina del bene di Contrada Vituso a Niscemi Confiscato alla mafia e ristrutturato In centro di accoglienza per diversamente abili Di cui è presidente Walter Donato Boscaia Si tratta di uno fabbricato di circa 200 metri quadrati Con attiguo terreno agricolo Costituito da due piani e comprendente anche una sala Per la riabilitazione intitolata alla memoria del giudice Rosario Livatino Alla cerimonia di consegna oggi erano presenti autorità civili, militari e religiose La nostra associazione è un'associazione che esiste da più di 30 anni La denominazione già contraddistingue l'oggetto dell'associazione Perché l'associazione è costituita da familiari di soggetti diversabili All'interno della struttura le attività che noi faremo saranno variegate Anche perché parliamo di arte, parliamo di sport Parliamo anche di gastronomia e parliamo di autonomia Perché diciamo che il progetto fondamentale è quello di rendere autonomi Le persone che frequentano queste strutture Quindi l'inclusione sociale per noi diventa l'obiettivo prioritario per le persone Nello Musumeci, presidente della commissione regionale antimafia Io sono contento che questa struttura qui a Niscemi Una città che ha dovuto fare i conti con una presenza malavitosa e criminale Certamente ingombrante Questa struttura saprà essere la testimonianza di una rivincita e di un riscatto Di una nuova stagione Niscemi è una città di persone per bene, oneste e laboriose E una sparuta minoranza non può assolutamente offuscarne la chiara immagine Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa Si inaugura un centro riabilitativo che sorge sulle ceneri di un bene che è stato confiscato alla mafia Oggi è il 21 marzo, primo giorno di primavera Un giorno di rinascita Un giorno in cui il bene sopraffa il male Vedi, questo era un terreno dove insisteva all'epoca un casolare Che è stato poi confiscato naturalmente alle mafie Ed è stato riconsegnato alla città sotto un'altra forma Sotto una forma vera Quella che è dovuta da chi ha fatto abuso del territorio Dalle generi è nata questa bella struttura E' stata abbattuta la vecchia E rinasce un centro che poi viene destinato ai diversamente abili E dal bando che noi abbiamo predisposto Chi ha vinto sono stati i genitori dei soggetti portatori handicap Torniamo a Gela Due incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore Ieri sera in via Settefarine Nei pressi della scuola Giovanni XXIII Una Fiat Panda si è scontrata con una Fiat Grande Punto Le due macchine hanno finito la loro corsa Dopo l'impatto sul muro dell'edificio scolastico Feriti i due conducenti che sono stati trasportati in ospedale E sul lungomare Federico II di Svevia Intorno alla mezzanotte una Peugeot 206 E' finita contro un guardrail Forse per evitare l'impatto con un'altra macchina Che proveniva dalla corsia opposta Feriti i due conducenti dell'utilitaria Sono un diciottenne ed un suo coetaneo Il primo se la caverà con una settimana di prognosi Il secondo con un mese per la frattura al setto nasale Cambiamo argomento e adesso occupiamoci della conferenza stampa Promossa oggi dai comitati in merito al passaggio della città del Golfo Di Niscemi e di Piazza Almerina Alla città metropolitana di Catania Domani previsto un sit-in a Palermo Dinanzi all'Assemblea regionale siciliana Finora nonostante i referendum E la decisione assunta dai vari consigli comunali Tutto è rimasto com'era Domani faranno sentire la loro voce Con un sit-in dinanzi all'ingresso Dall'Assemblea regionale siciliana Loro sono i componenti dei comitati ufficiali E gli amministratori di Gela, Piazza Almerina e Niscemi Città che hanno scelto di abbandonare le loro province E di entrare a far parte della città metropolitana di Catania Finora nonostante i referendum E la decisione assunta dai vari consigli comunali Tutto è rimasto com'era E l'indice accusatorio è puntato All'indirizzo del governatore della Sicilia Rosario Crocetta Crocetta dice una serie di fesserie Mente sapendo di mentire Non può proporre oggi un nuovo libero consorzio Quando le regole per la costituzione dei nuovi liberi consorzi Sono le stesse di quelle di due anni fa E in Sicilia non è nato nessun nuovo libero consorzio Ma aggiungo di più Come si fa a contattare il comune di Caltagirone Che al momento è commestriata E non ha nemmeno un'aggiunta Né un consiglio comunale per poter deliberare Questo puzza di bruciato Ovviamente Crocetta dice questo Per farci perdere altri 6-8 mesi E alla fine di tutto Farci permanere con Caltanessetta E non creare né un nuovo libero consorzio Né aderire alla città metropolitana di Catania Conosciamo molto bene Crocetta Lo conoscono tutti i nostri concittadini Noi sappiamo cosa dobbiamo fare Lui vada a studiare la legge E applichi l'articolo 44 Domani noi porteremo Il grido di dolore Dei nostri popoli Avremo voglia di dire tantissime cose Di fare tantissime cose Avremo voglia di gridare Di piangere e sorridere Vogliamo sorridere Alle basalette del nostro presidente Che disconoscendo la legge Che lui stesso Ha contribuito a farlo Ci invita ad altre cose Per confonderci le idee Non siamo stupidi Anche la consulta nisce-mese Non le manda a dire Il governo regionale L'istituzione L'assemblea regionale Non devono fare altro Che attuare Quello che è stata la volontà Delle popolazioni Di Niscemi Gile e Piazza in Merina Contra tutto Sono state ratificate Sia da un referendum Che dal consiglio comunale Tutte le altre cose Chi rappresenta l'istituzione Deve essere E deve applicare Semplicemente La volontà Dei popoli Né più E ne meno Quindi per quanto ci riguarda Di Niscemi Facciamo un appello All'istituzione regionale Affinché diano seguito A quello che è stato Deliberato Da Gile Da Niscemi E Piazza in Merina Intanto il nuovo partito Socialista Sicilia Ha inviato una lettera Alla prima commissione Affari istituzionali Dell'Ars In cui chiede Un'audizione urgente Al fine di trattare Le tematiche Che riguardano La legge regionale 15 del 2015 Sulle disposizioni In materia Di liberi consorsi Comunali E città metropolitane Ho chiesto Questa audizione Alla prima commissione Affari istituzionali Per confrontarci Per chiamare I capi gruppo Per i responsabili Istituzionali Per dire Che è una regione Che non approva La propria legge E non porta avanti Le proprie leggi Ed in una nota Liliana Bellardita Portavoce Del comitato Gelensis Populus Sottolinea Che oggi I comuni Del territorio Gileese Non ammettono Più scuse Gela Niscemi Piazza in Merina Hanno scelto Catania Perché il Parlamento Regionale Ha proposto una legge Sui liberi consorsi Che nell'arco Di un solo anno È stata scritta E scritta Ad arte Affinché Proprio Gela Non riuscisse A coronare Il proprio sogno Non dimentichiamo Che i tentativi Di realizzare La decima provincia Siciliana Più volte Sono stati ostacolati Così come Non dimentichiamo Le estenuanti battaglie Di cittadini volontari Abbandonati Da una politica A qualunque livello Prona Ai dettami Di un potere occulto Annidato Nei palazzi Istituzionali Le nostre città Si legge Nella nota Hanno fatto Una scelta Inconfutabile Nel pieno rispetto Di una legge Cambiata In corso D'opera Con l'articolo 44 Della legge regionale 15 del 2015 Si è deciso Di aderire Alla città Metropolitana Di Catania Perché non c'era Altro modo Per tagliare L'opprimente Cordone Ombilicale Che ha frenato La libertà Della comunità Della comunità Gelese Dovo tante battaglie L'affermazione Del presidente Crocetta Non c'è l'arma Più di tanto Gelensis Populus Considera la proposta Di istituire Un nuovo libero Consorzio Con Gela Città Capofila Giusta È l'idea Ad origine Di tutti i comitati Tuttavia Sarà necessario Prima Completare L'iter Di ingresso Alla città Metropolitana Di Catania Ma proprio Sull'istituzione Del nuovo Consorzio Di Gela Sfidiamo Il governatore Dell'Isola Chiedendogli però Di iniziare Con il completamento Dell'articolo 44 Che determinarà Il passaggio Con Catania Poi potremmo Ragionare Su ogni altra Ipotesi Crocetta Dice ancora Liliana Bellardita Torni a lottare Per gli interessi Dei cittadini Riavvicinandosi Materialmente Alla gente Perché le comunità Del gelese Non credono più Alle parole Altisonanti Gela Miscemi E Piazza Medina Hanno detto A Chiara Lettere Di voler seguire Il medesimo destino Dentro un unico territorio Sganciato Dagli interessi Delle rispettive Ex province Nuova protesta Questa mattina Dinanzi alla Capitalleria Di Porto di Gela Dei 49 Dipendenti Della Archimede Azienda siracusana Che si occupa Del servizio Antincendio Al Porto Isola Eni I loro contratti Dovrebbero scadere Entro giugno E allo stato attuale Non hanno certezze Sul futuro Da mesi I servizi Al Porto Isola Eni Si sono notevolmente Ridotti La riconversione Della raffineria Ha limitato I arrivi Di navi merce E gli attracchi Il comandante Della Capitalleria Pietro Carosia Anche davanti Ai sindacalisti Pino Lombardo E Nicola Carabrese Di CGL E Will Ha comunque Confermato Di avere Già firmato Il rinnovo Delle autorizzazioni Al gruppo Che si occupa Dei servizi Antincendio A questo punto Solo la ripresa Delle attività Nell'area Della Porto Isola Potrà consentire Di fare chiarezza Sul futuro Dei lavoratori Una vera e propria Spedizione punitiva Per uno sgarbo Fatto ad uno dei figli Questo il retroscena Della lite Tra due ragazzi Finita nel sangue Quando sabato pomeriggio Al villaggio Santa Barbara Un quarantenne È stato accoltellato Alla schiena Tre in issegni Pregiudicati Tratti in arresto Dalla squadra mobile Guidata da Marzia Giustolisi Assieme agli uomini Della sezione volanti Il 52enne Francesco Alletto Il 30enne Raimondo Alletto E il 41enne Massimiliano Salvatore Lombardo Per l'ipotesi Dei reati Di tentato omicidio Lesioni aggravate Rissa E porto abusivo Di armi I tre infatti Dopo il diverbio Tra uno dei figli Di Alletto E di un'altra persona Si sono recati Al villaggio Santa Barbara Teatro dell'animata Aggressione Che ha visto Il coinvolgimento Di una decina Di persone Dove Raimondo Alletto E Massimiliano Salvatore Lombardo Avrebbero impugnato Dai coltelli Sarebbe stato quest'ultimo Secondo la ricostruzione Degli investigatori Ad aver ferito Alla schiena Il quarantenne Nisseno Genitore dell'altro giovane Che per il colpo Inflitto Si è casciato a terra Ora ti sparo Sono state le parole A quel punto pronunciate Alla vittima Da Francesco Alletto Che teneva al fianco Una pistola Progetto omicidario Non è andata a buon fine Grazie all'intervento Di un'altra persona Presente sul posto Che sentite quelle parole Intuito l'insano proposito Di Alletto Lo ha immobilizzato Invitandola a desistere Dal suo intento Sentite le sirene Della polizia I tre si sono dileguati Facendo perdere Le loro tracce La polizia infatti Ha trovato sul posto Solo la vittima Riversa dolorante Sul cofano Della propria autovettura E qualche parente L'uomo è stato condotto D'urgenza All'ospedale Sant'Elia Dove è stato sottoposto Ad un intervento chirurgico Le sue condizioni Comunque Non sembrerebbero gravi Ha presi i nomi Delle persone coinvolte Nella spedizione punitiva I poliziotti Nel giro di poche ore Dall'accaduto Li hanno rintracciati Con addosso Gli indumenti Ancora in crisi di sanque Mentre i due coltelli Sono stati ritrovati In un domino Poco distante dal luogo Dove è avvenuto L'accoltellamento I tre uomini Si trovano ora Alla malaspina A disposizione Dell'autorità giudiziaria Proseguono intanto Le intagini Della polizia Per chiarire i punti oscuri Della vicenda È previsto per domani Alle 17 Nei locali Dal Tropico Med L'assemblea dell'Udc Sarà l'occasione Per ufficializzare Il direttivo Ed i dipartimenti Interverranno Toto Incardona Segretario locale Udc Gela Patrizia Comandatore Presidente cittadino Dell'Udc Angelo Bellina Segretario provinciale Dell'Udc E Orianna Mannella Consigliere comunale Di Caltanissetta E presidente provinciale Udc Inserito nel programma Delle attività Sui 35 anni Di Canale 10 Racconti di mafia È il titolo Di una serie Di documentari Che trattano Un tema importante E delicato Come la mafia Che ha insanguinato Le strade gelesi Tra la fine degli anni Ottanta E gli inizi Del novanta Racconti di mafia Traccia un percorso Importante Non solo Della storia gelese Ma anche di quella Nazionale Durante il corso Delle puntate Vi sono importanti Interventi Di rappresentanti Della magistratura E delle forze Dell'ordine E diverse testimonianze Di collaboratori Di giustizia La seconda puntata Di racconti di mafia Andrà in onda domani Alle 21 Ed in streaming Sul portale Tg10.it Ed in conclusione Della prima parte Del nostro telegiornale Vi ricordiamo L'appuntamento Di questa sera Alle 21 Con 10 domande 10 Nostro ospite È Luciana Carfì Responsabile locale Di Arci le nuvole Le repliche Sono previste Alla mezzanotte E domenica prossima Alle 18 Ci fermiamo Linea alla regia Per la pubblicità Rieccoci Seconda parte Del telegiornale È culminato Con la sottoscrizione Di un accordo Il progetto Emigrantes Che ha permesso Dopo 30 anni Il ritorno a Gela Di Giuseppe Caltabiano Oriundo Della città Del Golfo Il distretto turistico Valle dei Templi Di Agrigento Ed il comune di Gela Così come gli altri Enti locali Aderenti Hanno siglato Una intesa Che ha come obiettivo Quello di facilitare I rapporti E le interazioni Tra gli emigrati E i loro luoghi D'origine Il documento È stato firmato Dalla sindaco Domenico Messinese Nel corso Dell'ultima serata Dell'educational tour Della memoria Della memoria ad Agrigento Per il consorzio Agrigentino Erano presenti Ghetano Pendolino Enzo Camilleri Anna Maria Cicolone E Fabrizio Lagaipa Infine è intervenuto Luigi Billè Architetto emigrato A Londra Attivo presso Le associazioni Che si occupano Della divulgazione Della cultura siciliana All'estero È stata pubblicata Al comune di Gela La gradutoria Dei beneficiari Dei servizi Di assistenza domiciliare Ai anziani E ai disabili Lo ha reso noto L'assessore comunale Ai servizi sociali L'Icia Bela L'elenco Comprende anche i nomi Degli esclusi Per mancanza di requisiti Le gradutorie Sono consultabili Negli uffici comunali Del segretariato sociale In Viale Mediterraneo E dentro Il prossimo 16 aprile Le famiglie Degli alunni Della scuola secondaria Di primo e secondo grado Di Gela Possono presentare Istanza per l'assegnazione Del contributo Per la fornitura Gratuita O semigratuita Di libri di testo Relativo all'anno Scolastico 2015-2016 La domanda Di partecipazione Unitamente ai suoi Allegati Dovrà essere presentata All'istituzione scolastica Frequentata Dallo studente Al beneficio Possono accedere I genitori O altri soggetti Che rappresentano Il minore O lo stesso studente Se maggiorenne Appartenenti A famiglie In possesso Di un indicatore Della situazione Economica Equivalente Non superiore A 10.632,94 euro I moduli Di domanda Possono essere ritirati Nella scuola Frequentata Dallo studente O scaricati Dal sito del comune Comune.gela.cl.it E ora apriamo la pagina Dello sport Calcio Il Gela Rifila 5 gol Alla profa Fara E vede sempre più Da vicino La serie D Ieri Esodo Dei tifosi Biancazzurri E un carro E un carro armato Non si ferma più Ieri sul neutro Dino Liotta Delicata La squadra Tanto cara Al presidente Angelo Tuccio Ha rifilato 5 gol Alla profa Fara Un 5-0 Che non amette repliche Il divario Tra le due formazioni È stato evidente E i biancazzurri Hanno festeggiato L'ennesimo successo Dinanzi a tanti tifosi Che hanno raggiunto La vicina Licata Con ogni mezzo Il Gela Ha pure sprecato Un calcio Di rigore con Mincica Bravo il portiere Agrigentino A pararglielo Però poi Non c'è stata storia Ad aprire le marcature Ci ha pensato Al 41esimo Alma Un gol Direttamente Su calcio d'angolo E nella ripresa I giolesi Hanno schiantato L'avversario Prima una traversa Colpita da Scerra Poi al sesto Il gol Di Nassi Lo stesso attaccante Biancazzurro Si è ripetuto Al tredicesimo 3 a 0 Predominio assoluto De Gioresi Le altre reti Sono state siglate Da Russo Al trentatresimo E da Scerra Quattro minuti dopo Un pocherissimo Ampiamente meritato Ed alla fine Applausi per tutti Il campionato Di eccellenza Adesso Salverà un turno Di riposo Per le festività pasquali Si riprenderà Domenica 3 aprile Il Gela Sarà atteso Dal confronto Casalingo Con il Castelbuono Potrebbe essere La partita Che chiuderà I giochi Una vittoria De Biancazzurri Ed un mancato successo Della San Cataldese In casa Della Libertas Spalancherebbe Le porte Della sede Di ai Gioresi In occasione Delle due partite Che si giocheranno Presti Contro Castelbuono E Curso Palermo La società Biancazzurra Ha deciso Di ripetere L'iniziativa Con le scuole Tutti gli studenti Delle scuole medie E superiori Potranno acquistare I biglietti In curva Al prezzo Di un euro E a fine partita Franco Gallo Ha intervistato Il tecnico Dei Biancazzurri Totò Brucculeri Mister Cantavano i tifosi La capolista Se ne va Ma la San Cataldese Non molla Sì Dicono che L'Alcamo Ha fatto Tutto e per tutto Insomma Per fare sulla partita Anche perché Si poteva già Mettere in gioco Per i playoff Ha dato tutto Poi su una ripartenza Insomma Diciamo La San Cataldese L'ha castigato Ma il calcio è questo Quindi la festa Che poteva essere Già preparata Col Castelbuono In casa Insomma Certo Ma noi Non abbiamo pensato Quello Non abbiamo pensato La San Cataldese Ma abbiamo pensato Noi stessi Di vincere questa partita Rimangono tre E abbiamo un margine Di vantaggio Non indifferente E domenica Abbiamo un avversario Di tutto rispetto Con il calcio è il buono Dobbiamo vincere Quest'altra partita E poi Come dice il Presidente Andiamo a festeggiare Altro Ci può anche stare Di sbagliare Un calcio di rigore Ma poi Quello che è Confortante Che sono i gol Che hanno sbloccato La partita Però non dimentichiamo Che il ragazzo Ha tirato la carretta Quasi per tutto l'anno Insomma Non ha mai mollato Si può anche Sbagliare Un calcio di rigore Tu mi puoi rifare La domanda Dicendomi che è il secondo Se ci sarà Un calcio di rigore Andrà di nuovo Lui a tirare E nel campionato di promozione L'altretico Gela Non è andato Oltre il pari 1-1 in casa Con il Ragusa In vantaggio Con Asia I gelorossi Sono stati raggiunti Alla fine del primo tempo Nella ripresa Entrambe le squadre Hanno colpito Due legni Un pareggio Che non accontenta Nessuno I gelesi Devono rinunciare Alla zona playoff Mentre gli blei Hanno perso Il terzo posto In gradatoria Ed è andata Malissimo Al macchidella Gela Abbattuto sonoramente 5-1 Dalla new team Ragusa La situazione in classifica Per gli aquilotti Si è fatta preoccupante Domani alle 10 Il terzo circolo didattico Santa Maria di Gesù Di Gela Diretto da Angela Tuccio Presenterà un plastico Raffigurante alcune scene salienti Della vita di Gesù Dall'annunciazione Alla resurrezione Il plastico La via della salvezza È realizzato Da un gruppo di docenti E alunni È il frutto Della sinergia Tra competenze Ed abilità Legate al mondo Della storia Arte Tradizioni Ed è inserito Nell'ambito del progetto Scuola e territorio Abbiamo concluso Anche per oggi Grazie per averci Seguito appuntamento Alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.